Ciao a tutti, lui vorrà rivedermi a breve, chi fosse interessato a dover una risposta a questa domanda, seguo il video nel frattempo, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al nuovo canale, felicità e benessere di qui di posto in descrizione. Mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Concentrati su questo lui, del quale vuoi sapere se lo rincontrerai a breve, dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Il quale ha scelto la carta 1. Non ha un giudizio positivo nei tuoi confronti, quindi probabilmente a breve non accadrà nulla di particolare. Il quale ha scelto la carta 2, lo rincontrerai ma sarà una situazione... Cioè, ti vorrà rivedere ma sarà una situazione piena di fastidi. Che ha scelto la carta 3? Sì, ti vorrà rivedere e costruire una relazione importante con te. Che ha scelto la carta 4? Ti vorrà rivedere ma eventualmente solo per manipolazione. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!